Ma vuoi una macchina così? La comprereste? Io sinceramente no, e il motivo è abbastanza semplice. Perché è brutta? Lo so che l'estetica è una questione di gusti, ma con la cussetta ingostrata hanno decisamente sbagliato qualcosa. Bisognava rimediare e dopo 4 anni è arrivato questo restyling. Cosa cambia? Cambia tutto ed è una macchina completamente nuova. Partiamo dal frontale, con la griglia single frame ottagonale che cresce nelle dimensioni arrivando a toccare i gruppi ottici Matrix LED, che a richiesta possono essere anche laser. L'aspetto generale è decisamente muscoloso, è più morbido rispetto al passato, con le linee che ricordano i più recenti modelli della gamma. I pannelli della carrozzeria sono tutti nuovi, con il posteriore che è ora più slanciato grazie alla fascia cromata che collega i gruppi ottici. A richiesta è disponibile il pacchetto estetico sportivo S-Line, con cerchi da 20 pollici, protezioni sotto scocca ridisegnate e specchietti in fibra di carbonio o verniciati in nero lucido. Le dimensioni sono quelle di una grande ammiraglia, con una lunghezza di poco superiore ai 5 metri che permette a 7 persone sotto il filo di sedili di viaggiare nel massimo comfort, anche per lunghe distanze. Tante novità però le troviamo salendo a bordo, con la Q7 che riprende la tecnologia e lo stile che abbiamo già visto sulla sorella coupé. E l'influenza della Q8 si vede soprattutto all'interno, dove lo schermo dell'infotainment che prima era posto al centro della plancia a sbalzo lascia il posto a due display attraverso cui riusciamo a gestire tutte le funzionalità dell'auto e anche la climatizzazione, anche se per quest'ultima forse avrei preferito dei tassi o dei rotori fisici per evitare distrazioni durante la marcia. Sempre una sicurezza è il virtual cockpit da 12,3 pollici dietro al volante che collegato alla rete riesce a farci vedere in tempo reale anche le condizioni meteo del tratto di strada che si sta affrontando. La Q7 Restyling integra adesso la tecnologia Car2X che permette il dialogo tra la flotta Audi e le infrastrutture circostanti. Al debutto anche l'assistente vocale Amazon Alexa basato sul cloud e i controlli dell'auto da remoto. Grazie a questo infatti è possibile gestire le luci, avviare il motore e controllare l'auto dall'esterno nelle manovre di parcheggio e il tutto direttamente e comodamente dallo smartphone. A livello di comfort ci troviamo al top della categoria con tutte le superfici raggiungibili al tatto rivestite di materiali di ottima qualità e dall'assemblaggio maniacale. I sedili sono comodissimi e con la funzione massaggiante non fanno pesare assolutamente il passare dei chilometri. Ma la Q7 Restyling non cambia solamente nel design con gli ingegneri che hanno lavorato anche e soprattutto su ciò che non si vede. Al debutto su questo modello infatti le quattro ruote e sterzanti in abbinamento alla trazione integrale di serie, le sospensioni pneumatiche adattive e sportive a richiesta sulla diesel e direttamente dalla Q8 la stabilizzazione attiva del rollio. Ed è proprio questo il segreto che permette alla Q7 di essere così a suo agio tra le curve nonostante la stazza. Due motori elettrici collocati in corrispondenza di ciascuno degli assali infatti gestiscono l'azione dei due segmenti della barra stabilizzatrice. In rettilineo questi vengono separati attenuando le vibrazioni e le sollecitazioni a vantaggio del comfort mentre in curva vengono uniti riducendo il coricamento laterale rendendo l'assetto molto più piatto e incisivo. A richiesta nell'intricato listino Audi invece le quattro ruote sterzanti che girano in controfase alle basse velocità per aumentare l'agilità tra le curve e in fase quando è richiesta la maggiore stabilità possibile. Con il pacchetto sportivo Iceline inoltre la Q7 può essere dotata dell'assetto adattivo sportivo che rispetto a quello standard è leggermente più rigido. Quinta marcia 50 all'ora diamo un filo di gas e si va via che è un piacere. Qui sotto infatti abbiamo un V6 3000 turbodiesel da 286 cavalli e 600 Nm di coppia che fa dell'elasticità e del comfort di marcia ai suoi punti di forza. Nonostante le oltre due tonnellate di peso infatti di questa Q7 riesce a lavorare molto di schiena sfruttando la coppia e abbinato al cambio automatico Tiptronic a otto rapporti dimostra proprio su queste strade scorrevoli le sue grandi doti da macina chilometri. Ottima la risposta dello sterzo sempre preciso e dal carico perfetto che può essere gestito attraverso le diverse e tante modalità di guida. Sono sei auto, comfort, dynamic, efficiency, individual, on road e off road e oltre a modificare i parametri dello sterzo intervengono sulla sensibilità dell'acceleratore, sulle sospensioni adattive e sulla rapidità del cambio. Gli altri motori disponibili sul mercato italiano sono un 3000 turbodiesel da 231 cavalli quindi al di sotto della fatidica soglia del superbollo e un 3000 benzina da 340. Niente di nuovo quindi tranne per il fatto che tutti e tre sono supportati da un sistema mild hybrid a 48 volt. E' questa la spina dorsale del sistema MEV in grado di recuperare fino a 8 kilowatt di potenza nelle fasi di decelerazione immagazzinandoli in una batteria gli ioni di litio specifica e utilizzandoli per l'alimentazione dei dispositivi integrati nella rete di bordo. Questo permette alla Q7 di viaggiare a motore spento al rilascio dell'acceleratore per un massimo di 40 secondi tra i 55 e i 160 chilometri orari consentendo sulla carta un risparmio medio di 0,7 litri di carburante ogni 100 chilometri. Non poco considerando che in questo modo si percorrono circa 10 chilometri in più ogni 100, tenendo un'andatura nel rispetto dei limiti di velocità. L'Audi Q7 Restyling arriverà nelle concessionarie a partire da settembre prossimo. I numeri recenti del modello però testimoniano come ci sia stato un netto calo delle vendite legato soprattutto al fatto dell'arrivo di nuovi SUV e crossover di dimensioni più compatte sul mercato e alla moda sempre più crescente di SUV Coupé. I Audi quindi hanno capito che serviva una svolta e la svolta è arrivata perché si può dire di tutto ma l'estetica rimane sempre al primo posto quando si va a comprare un'auto nuova. E voi che cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti e cliccate sul link in descrizione per andare sul sito motorone.com italia, leggere la scheda tecnica e tutte le info di questa Q7.